Che cos'è l'amor? Chi ne ti va da dentro? Che spesso il suonamento sulla via del via del tamor? Non me importa, non me importa Non me importa, non me importa Mi ha fatto un prato per te Perché pensi un po' con me Questo bisogno, pensiero, amore Poi farmi il suo cuore Questo bisogno, pensiero, amore Per te, per te Tu mi sei che l'amore Quando l'amore senza l'amore Senza sesso che ci sono Tutti! Allora, siamo qua All'Osteria della Musica Con il cantante del Studio 54 Dito? Ciao ragazzi, buonasera a tutti Io sono Paco, cantante del Studio 54 Una band stranota Assolutamente sì Esatto, ne parlavamo poco fa Che dovunque sono andato a fare pubblicità A questa serata Tutti quanti vi conoscevano Che cosa è dovuto a questo successo? Ma sicuramente al fatto che sono tantissimi anni Che giriamo per le piazze d'Abruzzo E non solo La buona musica, la qualità del divertimento È sempre stata la nostra forza Pertanto chiunque ci ha sentito Poi si ricorda di noi E il repertorio che ci fate ascoltare questa sera? È un repertorio di brani internazionali e di italiani Rivisitati tutti in versione dance Per una serata assolutamente all'insegna del divertimento Quindi seguite su internet Ce l'avete la pagina Facebook Sì, allora Studio 54 è la nostra pagina Facebook E poi c'è la home page dei fan degli Studio 54 Seguiteci e non perdeteci mai di vista Ultima cosa Nomina i componenti del gruppo e li salutiamo tutti Allora Perché sono importanti Assolutamente sì Il motorino del gruppo La batteria Marco la ferita Poi abbiamo le chitarre Gianmaria Melchior e Ricci Le tastiere Andrea Ferri E al basso elettrico Tony Gianni Ok, allora Buona musica e un bocca al lupo per questa sera All'osteria Grazie, ciao a tutti Bella vita Grazie a tutti Ciao 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 a tutti